Brigitte Bardot, L'Haute Couture di Bibi. La carriera da modella aveva obbligato Brigitte a scendere a compromessi con la sua predilezione per le linee semplici e essenziali. Nei servizi fotografici e sulle copertine delle riviste che ne fecero il prototipo di giovane modella per le ragazze della borghesia francese, era vestita da firme prestigiose come Virginie e Balenciaga, con abiti lunghi a sbuffo o a pieghe, strati di tulle dai colori tenui e virginali, una piega semplice e uno sguardo sognante che faceva il gioco del pubblico che sfogliava elle au jardin de mode. Alcuni sodalizi iniziati in quel territorio rimarranno però inalterati nel corso del tempo, come quello con il celebre modista Jean Barté, a cui Brigitte avrebbe sempre chiesto i sui deliziosi cappellini, in particolare nella forma cloche, sia per i set sia per la sua vita privata. Anche la stilista Virginie tornò a vestire BB in Miss Spogliarello. A parte queste sporadiche eccezioni, spesso dettate da esigenze di copione, quello tra Brigitte e Lotte Couture fu un rapporto vissuto all'insegna dell'edisioncrasia. Nei suntuosi abiti dell'alta moda, BB si sentiva costretta e impacciata. Nella sua vita privata, quando le occasioni e le circostanze lo imponevano, aveva sempre scelto lei i designer a cui rivolgersi, non per ragioni pubblicitarie, ma solo quando il loro stile incontrava il suo gusto. Accadde così il giovane Herbert de Givenchy, del quale BB apprezzava l'eleganza, che le confezionò un abito di pizzo nero quando lei andò a visitare l'atelier appena aperto dal talentuoso stilista. È rimasta una diceria, quella secondo la quale lo stilista l'avestì nel film La Verità, 1960, di Henri-Georges Closot. I tagli raffinati della Maison avrebbero stonato con il ruolo di Dominique Marceau, ragazza spiantata e accusata di omicidio, interpretata dalla Bardot, che come di consueto aveva acquistato molti dei capi del guardaroba del suo personaggio da Monoprix. A Pierre Balmain, BB si rivolse per farsi confezionare il celebre abito di raso per la presentazione a Elisabetta II, solo dopo che lo stilista l'aveva vestita in piace a troppi, con un abito da sposa tea length da cocktail, abiti a clessidra, gonne dai vertiginosi punto vita, che si allargano a sbuffo e abiti camicia, con colletti e impunture maschili. In La sposa troppo bella, Pierre scelse per lei un abito da sera corto in tulle, che sembrava somigliare a uno dei tutù tanto cari a BB, con applicazioni di rose sulla gonna. Per l'abito da sposa, che appare nella scena finale, Olga Holsting aveva chiesto alla Maison Dior, ma lo stilista aveva sbattuto la porta in faccia alla gente della Bardot, non troppo convinto del solo ritorno pubblicitario della pellicola. Il film, infatti, venne girato prima del successo di «Ei Dio crea la fama». Nel 1950 Brigitte aveva sfilato da giovanissima per Dior con il modello Così fan tutte, ma le cose sarebbero cambiate l'anno dopo la consacrazione della Diva, quando, il 7 febbraio 1957, ospite a Monaco per la rivista Muncher Illustriere, di Lussière, al galà del Mardi Gras, BB fece il suo ingresso con un vestito disegnato per lei da Christian Dior. Il leggendario abito concerto era un trionfo di raso di seta rossa e sul tessuto rosso granato erano stampate rose rosse. Il décolleté era lasciato senza gioielli, enfatizzato solo da un elaborato bustier, i capelli raccolti e il viso illuminato da due pendenti di stordente bellezza fatte di zaffire e rubini. Il suo dalizio di BB, con la mesona al numero 30 di Avenue Montaigne, sarebbe continuato anche sotto la direzione artistica di Yves Saint Laurent, mentre fu solo nel 1970, quando alla guida c'era Marc Boan, che Dior avrebbe vestito la Diva per la prima volta per il cinema, sul set di L'or e la poupée, L'orso e la bambola, una commedia diretta da Michel Deville, dove Brigitte e Felicia, sofisticata e affascinante collezionista di mariti, che si mette in testa di conquistare e alla fine ci riesce un musicista scontroso incontrato in auto. Voluto da BB fu anche l'incontro con Coco Chanel. Brigitte era rimasta abbagliata dagli splendidi abiti che Mademoiselle aveva disegnato per Delphine Sarig, nel film di Alain Resnais, l'année dernière a Merenbad, l'anno scorso a Merenbad 1961. Fu una di quelle rare occasioni in cui Brigitte desiderò concedersi una coccola, facendosi confezionare un abito solo per lei. Più tardi l'attrice racconterà nella sua biografia di quell'incontro, con un'altra grande icona del Novecento, un'altra rivoluzionaria, un po' come lei. All'ultimo piano del palazzo in Rio Cambon 31, BB andò a trovare la donna che aveva reinventato la silhouette femminile. Coco non fece alcun apprezzamento su Brigitte, fatta eccezione per le sue gambe. «Mia cara, la cosa migliore che lei ha sono le gambe», le avrebbe detto la couturier. Quando le chiese il primo abito, Coco non ci pensò due volte, le fece prendere le misure, mise le sue sarte all'opera, le confezionò un vestito lungo da sera, in mussola di seta nera trasperantissima, che lasciava intravedere proprio le gambe, tanto apprezzate dalla stilista, e non accettò nemmeno un franco. Non vole invece accontentare il capriccio di BB, che desiderava portare una camellia nera nei capelli. «No, lei può al limite interpretare Ophelia, ma non Lady Macbeth», le disse Chanel. Tra il 1961 e il 1963, Brigitte avrebbe fatto altri ordini dalla stilista francese, seguendo il suo consiglio e affidandosi ancora una volta all'elegante e trasparente discrezione del tessuto scelto per lei da Coco. Al guardaroba di Brigitte si sarebbero aggiunte una tunica, un cappotto e l'intramontabile borsa con le impunture a nido d'ape e la tracolla metallica mista pelle, sufficienti per fare di Chanel la sua stilista preferita.